benvenuti in questo nuovo video oggi ho chiamato francesco detto franco per gli amici franco da parte di sabrina sua figlia e andiamo a vedere subito la sessione andiamo a schermo intero via cerca il suo papà dall'inizio facciamo così passiamo a sabrina come dal titolo è un papà in difficoltà ho capito subito che le in difficoltà per alcune interazioni che mi ha dato non parla molto però dice cose fondamentali e adesso andremo a vedere capiremo un po tutta la situazione cerca il suo papà francesco detto franco e niente c'è francesco dice ho dovuto tagliare molto il video perché da piccole risposte e dice adesso qua adesso volo nel senso che è volato qui per cercare di parlare con me e lasciare il suo messaggio e farmi capire una determinata situazione sua personale ma non solo non ho sentito se c'è franco no si francesco detto franco sabrina chiede una domanda particolare poi io te ne farò altre perché non gli appari dice che viene lo stesso a casa tua poi dopo vedremo una canalizzazione fatta dalla mia amica e ci conferma questa cosa però un passo alla volta dai il sogno dice isola lì nel senso che lui è isolato in un in un piano astrale molto particolare i miei guidi dicono non è vero non è vero il fatto che lui non è venuto in sogno magari tu non ti ricordi a me è capitato molto spesso che io sogno ma faccio fatica a ricordarmi che cosa sognato o non non ricordo proprio niente o delle volte ricordo il sogno e qua mi chiama demo molti mi chiamano mucci molti mi chiamano adamo e qua mi chiama demo lui e dice fitto quindi qua mi fa capire la sua situazione il suo piano astrale che è fitto è un ambiente molto particolare buio scuro e piove e difatti lui dice una cosa molto particolare questo è un piano astrale che abbiamo già visto dice proverò proverò a venirti in sogno però purtroppo io non ce la faccio perché in questa sessione io l'ho sentito molto scarico di energie non è riuscito a interagire eccetera eccetera e ho sentito qualcosa però la domanda era perché non gli va in sogno la domanda più è più consona più corretta è questa perché non gli va in sogno franco ascolta francesco chiamo franco stai bene sei nella luce dice che pativo cioè lui sta patendo quello che ha combinato in vita purtroppo è succede molto spesso in quando quando contatto determinate anime che non stanno nella luce non stanno in un piano astrale più luminoso tipo il prato eccetera eccetera abbiamo già visto le varie le varie dimensioni i vari cambiamenti o diciamo di dimensioni dove stanno alcuni nostri cari altri dove stanno altri nostri cari fino ad arrivare alla luce piena la luce di popadio e qua dice parla antonio qui mi son fermato in questa sessione ho dovuto contattare sabrina per chiedere ma tu conosci antonio e mi dice no non conosco antonio perché io avevo questo dubbio che franco detto cioè francesco detto franco era insieme a questo antonio molto probabilmente si sono incontrati in questo nell'aldilà in questo questo piano astrale e sono diventati amici e si sta si stanno aiutando a vicenda allora ho detto molto probabilmente ho pensato sarà così difatti antonio dice una cosa di questo genere io sto qui allora sto qui insieme a franco francesco detto franco cioè sono insieme tutte e due e vedete che nella sessione è arrivato sia il tuo papà cara sabrina ma è arrivato anche antonio e per fortuna che è arrivato anche antonio perché poi vedremo il perché volevo allora francesco detto franco ascolta vuoi mandare un messaggio sabrina e qua ci descrive ancora dove sta perché dice qua è vero c'è una sensazione vera non è falsità dice è vero qui fa freddo io sono un ambiente buio scuro freddo e dove piove che allora ti dà francesco ti lascio ancora ancora un po di tempo e per mandare un messaggio a sabrina dice che è lì papà vedi sabrina dice è lì papà non ti preoccupare che è lì papà e qui dice hai dolce molto probabilmente quando è venuto a trovarti stavi mangiando un dolce e questa è una dimostrazione pratica che dice va che io comunque vengo a trovarti e ti ho visto e avevi un dolce in mano che stavi sicuramente mangiando e dice starò qui fai un saluto chiaro dicono le mie guide perché comunque hanno capito che comunque molto probabilmente o lui parla poco o lui era molto scarico di energie perché comunque comunque essendo in un piano astrale molto basso fanno molta fatica quando il chiamo in metafonia e dice tonio con lui antonio e lo chiama tonio cioè come fossero amici qua mi fa capire che sono amici qua mi chiedono di fermare le alghe cioè è un ambiente buio scuro piove dove non arriva la luce e ci sono anche le alghe l'abbiamo già visto anche questa cosa delle alghe e mi chiede di fermare queste alghe cioè mi chiede di aiutarlo in poche parole qua dice viene sonno affetto io so stanco faccio molta fatica ma ho un grande affetto per te sabrina do ancora un'ultima opportunità a francesco detto franco di mandare un messaggio alla sua cara sabrina dice frasi sabrina sabrina e dice che ha un ladro molto probabilmente si riferisce al suo stato diciamo le sue marachelle che hanno fatto in in vita e lui dice si riposo e io ho bisogno di riposo bisogno di aiuto e ti dice sabrina ama dice ama non fare come me che ho delle ho avuto delle mancanze in vita poi capiremo meglio anche questa questa situazione nella canalizzazione che ha fatto la mia amica volevo voleva il biglietto molto probabilmente qua si riferisce che vorrebbe il biglietto per entrare nella luce cioè vuole una sorta di aiuto per elevarsi e non stare più in quel luogo brutto dove si trova grazie ti saluto franco un abbraccio e grazie allora qui adesso andiamo alla canalizzazione della mia amica amo eccoci qua buonasera damo finalmente sono riuscito a mettermi in contatto con francesco il papa di sabrina l'ho trovato in un luogo non bello molto fangoso e buio in effetti scende spesso la pioggia in quel luogo mi ha fatto tanta tenerezza e gli ho chiesto se era riuscita era riuscito ad andare la sua figlia sabrina qualche volta e mi ha risposto di sì poi ho chiesto di antonio e mi ha detto che è un'anima che è lì e si è legato molto a lui cioè a francesco e purtroppo questo gli toglie energia infatti se io avevo capito che lui era stanco non ce la faceva eccetera eccetera ma non lo fa consapevolmente difatti le anime che comunque sono nel basso astrale hanno bisogno di molta energia per tra virgolette sopravvivere ho parlato anche con lui e mi ha fatto molta tenerezza così ho chiesto a papa dio se poteva se potevo portarli entrambi più su verso il prato senza avere neppure il tempo di una risposta si è aperta una porta e ho visto tanta luce un uomo vestito di bianco penso fosse un ministro gli ha fatto cenno di passare prima francesco e poi ad antonio il quale gli sono venute le lacrime e anche a me perché sentivo le sue emozioni non gli sembrava vero di andare via di là anche lui poi entrambi sono passati e la porta si è chiusa francesco non è stato di molte parole però il suo cuore porta sabrina è per questo che andava da lei non solo per farsi aiutare ma per rivederla ancora quanta emozione ho provato dai suoi sentimenti non espressi ad amo la mia amica oltre andare di là nelle varie dimensioni li vede li sente e sente anche le loro emozioni non è solo questione di uno che analizza col braccio scrive con la scrittura ispirata eccetera eccetera no qua il lavoro che fa la mia amica è molto molto differente oltre a fare la scrittura chi la chiama ispirata chi canalizzata insomma non fa solo questo fa molte altre cose adesso andiamo a vedere io credevo che il messaggio era finito qui ma poi dopo un po mi riscrive ancora la mia amica e mi dice vabbè scusami per l'ora erano le 11 meno 20 allarghiamo meglio ecco scusami per l'ora ad amo e grazie mille per la pazienza io gli faccio incredibile mi sono venuti i brividi sono molto contento abbiamo aiutato due animi che meritavano ed ecco che la metafonia che avevo fatto diceva la verità grazie mille ringrazio la mia amica e qui è vero che non è la prima volta io sono sicuro che la mia metafonia porta la verità non dice cavolate e dopo un po mi arriva un altro messaggio che mi dice non è ancora finita sta scrivendo un messaggio francesco per te e mi dice grazie figliolo per non esserti arreso ed hai compreso bene la mia situazione sei un anima gentile purtroppo non tutti comprendono che è una fortuna incontrarti questo non sono io a dirlo ma lui per fortuna non pensare al passato togli quel fastidio che porti nel cuore non nutrirlo con i tuoi pensieri effettivamente paio di settimane che ciò pensieri un po particolari un po e questa cosa è lo so ma questa cosa è sbagliata però vedete lui mi legge mi ha letto nel mio cuore e ha capito benissimo lui non sapeva niente della situazione che c'è mia personale e dice una cosa molto importante le persone alla fine si fanno riconoscere per quello che per quel che sono e qui io sbalordito vabbè cosa devo dirti vabbè io ho capito antonio e l'ho lasciato con me perché non è cattivo e ci siamo fatti compagnia vicenda in questo mondo che crea solo buio invece di luce certo io non posso dire di non aver contribuito quando ero lì e qui penso che si riferisce alle maracchelle che ha fatto in vita o qualsiasi cosa che ha affrontato nella vita ma compreso mi dice si sempre te stesso non portare a lungo il buio in te con qualche pensiero che disturba perché tu sei luce ed io ti benedisco grazie io rispondo alla mia amica sono molto stupito di come mi ha letto mi ha letto io ho sbagliato dentro ma l'artificio di tutto questo è la figlia che vuole un mondo che gli vuole un mondo di bene per fortuna che è la figlia che gli vuole bene e quando qui l'amore comunque tra le dimensioni c'è non si può non si può scappare comunque ha ragione pienamente anche su di te non ti sei arreso fino oggi per riuscire ad aiutarlo grazie anche da parte mia perché è bellissimo tutto ciò andiamo al mio faccione e niente questa un'altra sessione di metafonia e canalizzazione assieme vediamo che comunque la metafonia funziona perché descrive determinate cose abbiamo visto la canalizzazione che descrive determinate cose insomma un'altra bella sessione nel senso che perché ho capito che comunque c'era qualcosa che non andava e allora quindi abbiamo abbiamo provveduto per fortuna che c'è la mia amica di solito il resto delle persone fa solo metafonia e se trova un'anima in difficoltà cosa può fare può fare poco è per questo che l'universo in qualche maniera sta facendo girare tutte le anime non è un caso se venite qui a fare cioè a chiedere metafonia eccetera perché comunque è un disegno tra virgolette divino perché io ho la possibilità grazie alla mia cara amica di aiutare le anime se arriva un'anima mi è successo spesso e volentieri quando non c'era la mia amica cosa si poteva fare si poteva pregare però tante volte le preghiere non arrivano le messe non arrivano ci sono ambienti veramente bui dove comunque la luce non arriva non arrivano neanche pensieri positivi o le preghiere e lì bisogna lavorare 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 ed è difficile portare un'anima comunque in un piano superiore astrale tipo nel prato dove abbiamo visto varie volte cioè il prato è come l'inizio di un di una salita per andare nella luce e niente dai finisco qui il video spero sempre di fare cosa gradita anche la mia amica spera sempre di fare cosa gradita fin quando papadio ci dà la possibilità di fare a me metafonia la mia amica la canalizzazione per cercare di aiutare però c'è anche da dire che non posso sovraccaricare di lavoro la mia amica e niente va bene così dai al prossimo video passiamo a sabrina cerca il suo papà francesco detto franco e niente c'è francesco non ho sentito se c'è franco no sì francesco detto franco sabrina chiede una domanda particolare poi io te ne farò altre perché non gli appari in sogno e ho sentito qualcosa però la domanda era perché non gli vai in sogno la domanda più è più consona più corretta è questa perché non gli vai in sogno franco ascolta francesco chiamo franco stai bene sei nella luce volevo allora francesco detto franco ascolta vuoi mandare un messaggio sabrina ok allora ti dà franco francesco ti lascio ancora ancora un po di tempo e per mandare un messaggio a sabrina do ancora un'ultima opportunità a francesco detto franco vi mandare un messaggio alla sua cara sabrina ok grazie ti saluto franco un abbraccio e grazie